Queste sono le nuovissime Dyson Zone Absolute Plus. Sono prima di tutto delle cuffie. Alta qualità, pochissima distorsione, driver inclinati nella direzione del timpano per massimizzare le performance acustiche. È stata messa veramente tanta attenzione dagli ingegneri Dyson sulla componente acustica. A livello di design dichiarano la loro essenza high-tech, non fanno mistero di dettagli tecnici come i motori installati all'interno dei padiglioni, motori fondamentali per la parte di purificazione. Questo prodotto infatti è per metà una cuffia e per metà un sistema di purificazione portatile. Modalità trasparenza attivabile con un doppio tap sul padiglione. Possiamo parlare con le persone quando è attiva, possiamo isolarci completamente dal caos cittadino per evitare l'inquinamento acustico. Indossando l'apposita visiera magnetica si attivano automaticamente i due silenziosi e potenti motori Dyson installati all'interno dei padiglioni. L'aria passa attraverso questi filtri, viene depurata dai pollini, dagli inquinanti, da tutto quello che può essere nocivo nell'aria che respiriamo.